Ma io questo non lo so sinceramente, io nello spogliatore dei ragazzi non sono entrato dopo la partita, non lo so, Ronaldo bisogna ringraziarlo perché si è messo a disposizione, perché te l'ho detto, tanti nelle stesse condizioni stamani avrebbero fatto un passo indietro, lui si è messo a disposizione, ha giocato, la sensazione era che il ragazzo era un po' in difficoltà e siamo andati alla sostituzione. Se lui sarebbe appena una sostituzione, dopo tutto quello che ha vinto, a me fa molto piacere perché significa che ha la testa ancora pienamente coinvolta e vuole dare una mano alla squadra a tutti i costi, quindi io ad un giocatore lo sostituisco e esce con un minimo di giramento, a me piace, io sarei molto più preoccupato del contrario, quelli che togli dal campo è per loro uguale, quindi quello mi preoccuperebbe.